Bella a tutti ragazzi, qua Orgasmic e sono qui a portarvi un nuovo video della carriera con lo Schalke Purtroppo trovo sempre poco spazio per questa serie che comunque mi piace fare e mi dispiace Però comunque adesso ci godiamo questo episodio che non è in live, mi scuso ma non penso li farò tanti in live Perché mi è sempre un po' scomodo registrare appunto in live Comunque adesso vediamo un attimo questo calendario, troviamo l'Herta Berlino in casa se non sbaglio Vi ho risparmiato la partita con l'Offene che è finita 0-0, una partita veramente bruttissima quindi lasciamo perdere E poi ci sono... c'è l'Everkusen, poi due partite di qualificazione, quelle con le nazionali e poi una terza partita che non ricordo, forse con l'Hausburg Comunque questa è la squadra che ho utilizzato contro l'Herta Berlino, appunto a Berlino quindi trasferta non semplicissima Comunque io parto davvero bene questa partita con l'HZ che fa una grande giocata e poi non si sa come la palla è uscita fuori Cioè lì deve sempre entrare, non so come abbia fatto Si rende pericoloso subito dopo anche il mio avversario con questo colpo di testa che sfiora il palo davvero pericolosissimo Poi però lanciando Bright White, ecco quando supera il difensore sai che è praticamente finita per l'avversario Bright White centra praticamente sempre la porta e trova il gol dello 0-1 al quarantesimo Quarentunesimo circa che mi porta in vantaggio e poi riesco anche a fare gol de 2-0 con Farfan dopo una grande giocata entrando in area Bucando tipo 25 difensori che non riescono a prenderlo grazie alla sua velocità e alla sua bellissima conclusione di sinistro Quindi 0-2 per noi al quarantesimo quindi alla fine del primo tempo Poi faccio qualche cambio, entra Martial che spreca questa occasione che guardate tipo sale di 800 metri Poi scende sulla traversa, purtroppo non riesco a sfruttare il rimbalzo E poi però chiudo la partita al novantesimo proprio i giochi con l'HZ che fa un zigzag incredibile Che sbanda qualsiasi avversario e che non capisce più niente E faccio appunto il gol del 3-0, partita dominata ovviamente ha avuto forse un'occasione l'avversario Purtroppo però il Fosburg vince e anche il Borussia Dortmund e quindi restano sempre avanti le due Intanto adesso siamo, il Bayern è sotto di noi, il Bayern Leverkusen Nel caso battessimo il Bayern Leverkusen andremmo a più 3, la cosa non sarebbe male Pardo abbastanza bene con Draxler che l'ho voluto mettere in questa partita al posto di Boateng Trovo una bella conclusione, qui una parata miracolosa di Farman Che sarà veramente una giornata incredibile per lui perché farà veramente tante parate Poi qui mi mangio il gol dell'1-0 al 55esimo, ci sono state poche azioni in questa partita Poi con Draxler riesco a trovare l'HZ che la mette in mezzo sempre per Draxler Che segna il gol dello 0-1 all'87esimo, quindi partita praticamente conclusa Riesce a farmi vincere questa partita all'87esimo, però guardate cosa succede Che parata incredibile di Farman che qui salva il risultato Al novantesimo sarebbe stato pareggio perché altrimenti non sarei riuscito a andare avanti Vince il Bayern Monaco, però se non sbaglio ha perso il Borussia Dortmund, non mi ricordo Comunque ho staccato di tre punti il Leverkusen Adesso si presenta il Bayern Monaco che ha tre punti se non sbaglio da me o qualcosa del genere Gioco va bene, simulo le partite qui di nazionale perché sinceramente mi interessa poco Intanto si infortuna, come potete vedere, si infortuna Hazard che verrà poi sostituito da Mertens Che comunque ha lo stesso ruolo, ma sinceramente a me frega poco di questa partita C'è anche una partita con la Francia che forse è un derby, non so se è un derby Belgio-Francia Comunque la partita purtroppo finisce 1-2 all'88esimo, quindi alla fine se riuscite ad andare in vantaggio Peccato, comunque si fa niente Adesso abbiamo una partita decisiva, molto importante contro l'Augsburg Perché fare punti è la cosa più importante in questo momento, non dobbiamo assolutamente adagiarci sugli allori Altrimenti, detto fatto, perdiamo magari il posto in Champions e non sarebbe una cosa bellissima Appunto trova il gol Scott Parker dopo pochissimi 3 minuti di gioco Scott Parker con un gol meraviglioso dalla distanza, un po' fortunoso però vabbè Però questa partita è abbastanza strana, sbaglio tutti i passaggi, i giocatori non ne vogliono sapere di giocare bene E prendo pali eccetera eccetera L'avversario va sul 2-0, inevitabile, l'avversario fa due tiri in porta e fa due gol Io cerco di riaprirla all'83esimo dopo che comunque avevo attaccato tutta la partita Martial ci riesce a riaprirla all'84esimo, 2-1 per l'Augsburg Poi trovo un'altra occasione incredibile, guardate qui Martial davanti al portiere se la fa parare come un ciuccio E purtroppo la partita finisce 2-1, mio malgrado perché davvero non meritavamo di perdere questa partita L'avversario ha fatto appunto due tiri in porta, due gol, mentre noi abbiamo preso anche un palo e purtroppo non ci è andata bene Il Borussia Dortmund ha perso però avendo perso anche noi non ci giova molto questa situazione Intanto c'è il Bayern, il Bayern Monaco ha 3 punti sotto quindi bisogna stare attenti nei prossimi episodi Sarà veramente dura perché comunque il calendario non è semplicissimo E come potete vedere abbiamo il Friburgo adesso in casa, non dovrebbe essere una grossa pratica Una pratica difficilissima però poi ci tocca affrontare in semifinale di Deutscher Pokal Il Bayern Monaco e poi un'altra super partita con il Fosburg Quindi davvero raga ci aspetta un calendario difficilissimo da qui in poi Come sempre io vi invito a lasciare un bel mi piace raga A 300 mi piace uscirà un nuovo video Fatemi sapere se vi è piaciuto questo episodio Fatemi sapere se volete più episodi durante il mese Perché ripeto sto dedicando poco spazio a questa serie, un po' mi dispiace Niente iscrivetevi al canale, pagina Facebook, Twitter, Instagram Tutti i link come sempre li trovate in descrizione Noi ci vediamo al prossimo video, bella raga